Sì, eh? Vai. Ma è bello. Non c'è la data. È un cavie, sì, io... Ma questa è che ci fa? Ma avete voi, perché io qui sotto, questa manfetta... Era sotto? Sì, dovevo andare qui sotto, questo è il senso. Non c'è per la faccia. Ma qui è la luce. La luce. Questo, gli interruttori, l'avevamo visti? Sì. L'avevamo visti su... Beh, sugli atti. Com'era? Com'era? Ridemmi, dimmi, com'era? Eh... E... E... Giù. Oh! Porca miseria. Questi sono pazzi proprio. Ma ce l'hai una? Ce l'abbiamo? C'è una patina? Sì, io ce l'ho una soccetta. Ma dai, dobbiamo cercare queste cose, su. Où? Sì, io ce l'hai di ossario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.